Cervovedi Revisore Cervovedi Revisore Cervovedi Revisore Cervovedi Revisore Cervovedi Revisore Buonasera a tutte e a tutti. Quello che vi propongo questa sera è un viaggio ed un incontro, un viaggio anche storico, lo vedremo tra poco, E un incontro con particolari soggetti che in realtà sono già stati anticipati nell'introduzione. Dunque la mia prima domanda, quella non tra parentesi, chi manca? In realtà è una risposta molto facile. Ma fingo di mantenere un po' la suspense e parto descrivendomi in realtà le due immagini alternative. Quella di destra probabilmente è conosciuta alla maggior parte di voi. Si tratta di una manifestazione di protesta contro la violenza sulle donne, che costituisce, lo sappiamo purtroppo tutti dalle pagine quotidiane, dei giornali, dalle notizie, un fenomeno particolarmente allarmante. Forse conoscete meno la fotografia sinistra. Quel signore lì si chiama Ed Roberts, si chiamava Ed Roberts, era un attivista per i diritti civili delle persone con disabilità. Siamo a Berkeley, in California dunque, e Ed Roberts e le Rolling Quotes stanno protestando per ottenere l'accessibilità dell'università e del campus annesso. Quindi rivendicano sostanzialmente l'effettività del diritto allo studio. Ritorno alla mia domanda iniziale. Chi manca? In un caso vediamo degli uomini con disabilità, nell'altro vediamo delle donne senza disabilità. Incrociamo i dati, mancano le donne con disabilità. In realtà qui mi autodenuncio subito, perché se noi ampliassimo la fotografia dove vedete Ed Roberts, vedremmo anche delle donne con disabilità. Ma il fatto che partecipassero fin da subito alla rivendicazione dei diritti civili, non significa che a queste donne fosse stato dato veramente voce, e dunque che fossero realmente visibili. Quello che mi interessa capire con voi è perché mancano le donne con disabilità. E la ragione è data da una parola con la quale oggi siamo abbastanza in confidenza, potremmo dire. Intersezionalità. Sono convintissima che almeno alcuni di voi sappiano che questa parola esiste. Poi capiamo bene esattamente che cosa sia, questo è un altro discorso. Ma per capirlo, è una parola che è stata coniata alla fine degli anni 90 del XX secolo da una giurista statunitense che si chiama Kimberly Crenshaw e che ha parlato delle donne afroamericane. Crenshaw è una pensatrice visuale, quindi ci propone di immaginare. E immaginiamo in particolare un incrocio stradale, dove abbiamo degli assi della discriminazione che si intersecano. Crenshaw fa il discorso sulle donne afroamericane, noi lo facciamo sulle donne con disabilità, ma il risultato non cambia. Lungo un asse della discriminazione abbiamo il sessismo, lungo l'altro asse della discriminazione abbiamo l'abilismo. Sul sessismo non mi soffermo perché tendenzialmente lo conosciamo. l'abilismo consiste nella proiezione di un particolare tipo di soggetto di corpo come tipicamente umano, il che porta a relegare tutto ciò che non si conforma alla norma nella sfera del non umano o comunque a creare delle gerarchie tra i soggetti. E in particolare l'idea di corpo e di soggetto che ci è stata tramandata dalla tradizione filosofica occidentale fa leva su un'idea di soggetto come soggetto autonomo, razionale e dove l'autonomia è strettamente connessa o diventa indipendenza, dunque una capacità di fare tutto da sé, di essere autosufficienti, autonomi, non dipendere da nessuno e un soggetto razionale. Pensate a Cartesio, cogito, ergo sum, dove il corpo non c'è. Perché siamo ragione. Ora, chiaramente tutto questo porta ad escludere le persone con disabilità o perché non sono pienamente razionali o perché hanno un corpo che è un corpo che si inceppa, è una macchina che non funziona adeguatamente secondo i canoni che culturalmente e storicamente sono considerati una normalità. Dunque, abilismo. Sessismo e abilismo, e ritorno alle metafore dell'incrocio, si intersecano e al centro di questa intersezione si trova la donna con disabilità, discriminata in quanto donna e in quanto persona con disabilità, che subisce l'impatto dei veicoli che stanno percorrendo questo incrocio. Ci troviamo davanti a un incidente. L'effetto della discriminazione non è semplicemente la somma tra sessismo e abilismo, ma l'impatto è devastante. La discriminazione non si somma, ci direbbero le donne con disabilità, ma si moltiplica. E allora cosa porta questa interazione tra sessismo e abilismo? Ad una serie di stereotipi. Se gli uomini di norma sono pura ragione e le donne sono associate alla corporeità storicamente, sono state associate alla corporeità, anche le donne con disabilità subiscono il destino delle donne, ma abbiamo detto è un destino ancora peggiore perché in realtà sono corpimenti difettosi come tali devianti rispetto alla normalità. Sono soggetti dipendenti, passivi, dipendono dal prestatore, più frequentemente dalla prestatrice di cura. Non sono capaci, la presunzione di incapacità femminile è storica, pensate a tutti i divieti anche giuridici che sono stati dati alle donne imposti alle donne proprio in ragione della loro presunta incompetenza. Questi divieti storicamente sono via via stati smantellati, ne rimane qualcuno a livello culturale, nel caso però delle donne con disabilità rimangono. Le donne con disabilità sono considerate eterne bambine e come tali è necessario che qualcuno decida per loro, è necessario agire per il loro bene. E' questo che i ripercussioni ha sul godimento dei diritti e sul riconoscimento dei diritti. Questo significa, ad esempio, che in una procedura, un procedimento di divorzio, difficilmente a una donna con disabilità venga affidato un figlio perché si presume che non sia in grado di prendersene cura. Questo giustifica il fatto che ci siano una serie di norme che legittimano altri soggetti a decidere per loro, come vi dicevo, per il loro bene. Tutto questo si lega in realtà all'aspetto della sessualità in modo particolarmente rilevante per quanto riguarda la violenza. Perché? Perché o si presume che le donne con disabilità siano soggetti assessuati, che non abbiano una vita sessuale, dunque banalmente anche che non possano procreare. E quindi questo comporta, ancora una volta, banalmente, ma l'uso opposta per provare a trasmettere il messaggio che non ci si pensa. Che questo comporta che i centri ginecologici, ad esempio, non siano accessibili, non lo siano stati per moltissimo tempo, si sta iniziando ora a cambiare le cose. O questo comporta che molti medici non sappiano l'interazione tra la pilola anticoncezionale e eventuali farmaci che una donna possa dover prendere le ragioni della sua disabilità. Non ci si pensa. Oppure, in alternativa, le donne con disabilità sono soggetti ipersessuati, come tali da contenere. Sono eccessivamente dedite ad attività sessuale. Qual è la forma migliore per contenere una donna con disabilità o un soggetto che comunque, appunto, manifesti queste tendenze eccessive? Contenerla. E come si contiene? Con la sterilizzazione non consensuale. Quella che vedete a sinistra è Carrie Buck. Il caso è un famoso caso americano del 1927. Carrie Buck era una donna che al tempo si riteneva avesse una forma di disabilità mentale. In realtà, poi si scoprirà che non era così. Figlia di una donna con disabilità dà alla luce una bambina vivia. A quel punto si pone il problema di cosa fare con questa donna che è incapace di contenersi e si decide di procedere alla sterilizzazione che al tempo è legittima nello stato della Virginia. C'è una legge che lo consente e in realtà non è l'unica legge. Dal 1907 iniziano tutta una serie di leggi che consentono la sterilizzazione perché? Perché siamo nell'epoca di Darwin, di Galton quindi eugenetica. e il giudice Holmes che è incaricato di decidere il caso o meglio di stabilire se la legge della Virginia è conforme alla Costituzione dice che non si pone alcun problema di violazione dei diritti. Perché? Perché è compito della nazione tendere al miglioramento della specie e dunque tre generazioni di imbecilli cito testualmente sono sufficienti. Bisogna prevenire chi è manifestamente unfit non in grado di essere prestanti in qualche modo dal propagare la propria specie. Dunque tiriamo un sospiro di sollievo siamo in Europa siamo cent'anni dopo abbiamo una convenzione di Istanbul che tutela le donne da ogni forma di violenza e quindi anche le donne con disabilità abbiamo una convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità eppure eppure succede che se solo ci limitiamo all'Europa noi abbiamo solamente alcuni stati che espressamente hanno delle legislazioni che vietano la sterilizzazione non consensuale delle donne con disabilità tra queste l'Italia dove la sterilizzazione è consentita per ragioni mediche o tra queste ad esempio anche la Spagna la legge spagnola è del dicembre 2020 una consapevolezza decisamente recente la sterilizzazione non consensuale è una forma di violenza di genere violenza che specificamente colpisce non solo le donne con disabilità ma ad esempio anche le donne rom le donne con disabilità sono esposte alla violenza di genere dunque non solo alla sterilizzazione in media almeno tre volte più delle donne senza disabilità e subiscono forme particolari di violenza come ad esempio quella psicologica è la forma di violenza più utilizzata ma la forma di violenza nei confronti delle donne con disabilità differisce da altre si caratterizza per i particolari luoghi in cui viene compiuta e per i soggetti parliamo anche dell'RSA o degli istituti parliamo anche dei caregiver dunque occultamento invisibilità invisibilità dei soggetti e invisibilità della violazione dei diritti potremmo dire quindi che allo stato attuale nonostante ci sia sicuramente una maggiore sensibilizzazione in merito alla tutela dei diritti delle donne con disabilità e in merito al fatto che esistono queste cose sono molto più vicine a noi di quello che pensiamo anche perché molto spesso ad esempio una sterilizzazione non consensuale viene nascosta dietro un'appendicectomia bene nonostante ci sia questa consapevolezza vi dicevo ancora la tutela dei diritti di queste donne può essere considerata un'utopia e allora questo viaggio e questo incontro che vi ho proposto nasce proprio dall'esigenza di riflettere e da un incontro che io ho fatto dei temi prima che delle persone io questa sera sono qui per parlarvi di questo tema nella speranza di avere scorciato in qualche modo un velo perché sono convinta che molti di voi in realtà non siano mai stati portati a riflettere su questi temi mi basta anche un semplice non ce l'ho pensato va benissimo così è esattamente questo è scorciare un velo se l'invisibilità è una forma acuta di discriminazione sociale prima ancora che in termini giuridici che è il mio campo bisogna agire su un piano culturale io vi dicevo non sono una donna con disabilità secondo i canoni socio-culturali attualmente vigenti non per questo il mio discorso è un discorso sulle donne con disabilità ma vuole essere un discorso con le donne con disabilità perché se bisogna o meglio se si vuole rendere possibile un'utopia che è quella della tutela dei diritti e del riconoscimento dei soggetti e oggi parliamo di donne con disabilità ma potremmo parlare di tantissimi altri soggetti ai margini esclusi discriminati e oppressi lo scatto culturale da fare è non ritenere che certe battaglie e certe questioni riguardino solamente alcuni e in particolar modo in questo caso alcune i diversi o le diverse perché sono un problema di tutti e se sono un problema di tutti quello che è necessario fare è stringere alleanze perché le loro battaglie sono anche le mie battaglie si può partire da cose molto piccole per squarciare questo velo dell'invisibilità probabilmente avrete notato che io ho messo in ogni slide la descrizione immagine e non ho giustificato il testo è una tecnica di accessibilità è una garanzia di un diritto è una cosa semplicissima a cui banalmente non si pensa e squarciare il velo porta a cambiare atteggiamento culturale e a vedere una serie di violazioni dei diritti a cui prima semplicemente non pensavamo se iniziate a prestare attenzione a tutti questi aspetti probabilmente vi potrete accorgere che alcune cose che ci sembrano naturali alcune violazioni dei diritti in particolar modo accade con la disabilità che ci sembrano naturali anche perché si è sempre fatto così in realtà naturali non sono assolutamente e la prova potreste averla sostituendo alla persona con disabilità o alla donna con disabilità una persona senza disabilità certe pratiche risulterebbero inaccettabili prendete la sterilizzazione non consensuale se vi dicessi è lecito o dovrebbe essere lecito sterilizzare una donna mi rispondereste assolutamente no indignati se la donna è con disabilità il discorso si fa più complesso c'è da rifletterci è un problema culturale e dunque vi lascio con il movimento per i diritti civili delle persone con disabilità dove compaiono lo vedete anche le donne quindi mi sarei sconfessata comunque anche alla fine del mio intervento dicendo che l'utopia affinché sia possibile è un qualcosa che riguarda in realtà noi e tiene la nostra responsabilità a partire appunto dal riconoscimento che l'ingiustizia ovunque è una minaccia alla giustizia dappertutto grazie 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 grazie